Oggi voglio sbloccarti un ricordo. Vi ricordate Willy il Coyote e Bip Bip? Uno dei principali cartoni animati che ci ha fatti divertire accompagnandoci per tutta la nostra infanzia. Se ti ricordi di loro, allora ti comunico che è ufficialmente in arrivo il film Coyote vs Acme. Si tratta di un film in tecnica mista dove Willy il Coyote fa causa all'azienda Acme perché i suoi prodotti non hanno mai funzionato. Anzi, oserei dire tutto il contrario. E durante la causa sarà affiancato da un avvocato. Interpretato niente proprio di meno che da John Cena. Allora, si pensava che questo film fosse stato definitivamente cancellato. Perché originariamente sarebbe dovuto uscire nelle sale lo scorso 21 luglio. E come tutti ben sappiamo, invece, è arrivato al suo posto il film di Barbie. Ma attualmente il progetto di questo film è più vivo che mai. E sono sicuro a nome di tutti che ci farà sognare. Infatti...